Ehi, bentornati! Ho deciso di fare questa serie di tre video che sono un'analisi e riassunto delle otto puntate di Last Evaluation, il survival show che formerà poi le Baby Monster. Quindi se non avete voglia di recuperarvi otto video della lunghezza di circa 20 minuti o siete curiosi di sapere cosa ne penso, buona visione! Come ben saprete, dopo averci presentato le ragazze dal punto di vista del talento, dal punto di vista di un'intro vera e propria e infine con un contenuto simpatico su di loro, Ecco, dopo mesi che ci siamo abituate all'idea che il gruppo sarebbe stato composto da questi sette membri, Yan Hyunsog annuncia che le Baby Monster non sarebbero mai state un gruppo di sette membri e che sarebbero state meno. Effettivamente non avevano mai specificato prima di quel momento che le sette ragazze avrebbero debuttato e che facevano già parte del gruppo. Però a mio parere hanno fatto di tutto per farcelo credere, basta guardare anche al poster stesso con scritto Baby Monster e con sette membri sotto. E poi giustamente dopo questi mesi di convinzione totale che i sette membri avrebbero debuttato, ecco qua la bomba finale. A mio parere il programma non nasce perché non riuscivano a decidersi sui membri che avrebbero dovuto debuttare e cose del genere, semplicemente nasce per creare hype intorno al gruppo. Tra l'altro, chi ha pensato di annunciare che non sarebbero stati sette membri solo dopo averceli presentati tutti è un genio. In questo modo abbiamo accolto a braccia aperte tutti i membri che ci venivano presentati perché convinti che avrebbero fatto parte del gruppo. Mentre in caso contrario, se avessimo saputo che qualcuno doveva essere eliminato, sicuramente saremmo stati più chiusi e più diffidenti nei confronti dei membri che non appartenevano alla nostra bias lista, perché li avremmo visti come una possibile minaccia. Il programma Last Evaluation è composto da una serie di missioni e la prima, indovinate e indovinate, che missione sarà mai? La Blackpink Mission, sì. Devo dire che all'inizio avevo preso con un sacco di entusiasmo e positività questo legame tra Blackpink e Baby Monster. Ma oh, prendetemi per cattiva, ma questo legare continuamente Pinks a BAMON sta diventando fastidioso e a volte risulta davvero forzato. Tra l'altro è anche irrispettoso secondo me per entrambi i gruppi. Più che altro, considerata l'insistenza e la frequenza con cui viene fatto. La Blackpink Mission è divisa in due parti, vocal e dance, ed entrambe le missioni avranno 30 giorni di preparazione. Tra l'altro, quello che non ho capito, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, è se la vocal mission e la dance mission siano preparate contemporaneamente, oppure se ci abbiano messo prima un mese per una e poi un mese per l'altra. Io non l'ho capito. Comunque, nella vocal mission decidono di dividere le ragazze in due gruppi. Tra l'altro anche equilibrati, perché ogni gruppo ha un membro tailandese e un membro giapponese rapper. Il primo team è composto da Ruka Parita e Ahyon, che si esibiranno in Gon. Ma sono matti? Non so se vi rendete conto di quanto sia difficile la canzone, e non so se vi rendete conto che nemmeno Rosé in live ha mai fatto la parte del e pretendono che lo facciano delle treni. Ok? Tra l'altro, la distribuzione della difficoltà delle parti non ha senso, perché danno tutta la parte dello yo, del yo, o, 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 ad Ahyon, che infatti si sfonda la gola. Nonostante faccia benissimo, tra l'altro non è che si prenda chissà quanti complimenti in più rispetto alle altre. Anzi, comunque l'esibizione è stata incredibile e le ragazze hanno spaccato. Ho adorato la loro versione di Gon e la mia preferita in assoluto è stata Ahyon, inutile dirlo. Tra l'altro questo trio ha funzionato un sacco bene, sia a livello di vocalità, sia a livello di coesione, sia a livello di immagine, proprio perfette. Le vedevo molto molto bene. E nel corso di questa missione vediamo Jenny in veste di mentore alle Baby Monster, che oltre a valutare le ragazze si è resa anche disponibile a qualsiasi tipo di consiglio. Chiaramente, potevano usare Jenny per un solo video? Ovviamente no! Un po' per necessità di editing, un po' per opportunismo, il mentoraggio di Jenny viene diviso in due video separati. Uno appunto per quando dai consigli al primo gruppo e uno per quando dai consigli al secondo gruppo, nonostante siano stati girati nello stesso momento. Il secondo gruppo è composto da Asa, Aram, Lora e Chikita. E a loro assegnano Stay, che è una delle mie canzoni preferite delle Pinks, ma è decisamente molto più facile dal punto di vista vocale. Diciamo che la difficoltà di Stay sta nell'interpretazione. E per come è stato montato il video, ho come la sensazione che abbiano voluto dare un'immagine di questo secondo gruppo un po' meno professionale. E tra l'altro, in questo gruppo si sente la pressione e un minimo di rivalità della gara, non rivalità di quella tossica. A vedere anche la reazione di Lora, che non si sente all'altezza delle altre, diciamo che hanno voluto far vedere che loro la gara la sentivano di più. Anche la loro esibizione comunque è stata incredibile e sono rimasta particolarmente colpita da Asa. La performance però riceve alcune critiche e non viene particolarmente apprezzata. L'unico membro a ricevere dei complimenti individuali è Chikita. Non sono proprio d'accordo con tutte le critiche che sono state mosse al gruppo nella mancanza di energia e di passione. Credo che semplicemente le ragazze si siano trovate in estrema difficoltà ad interpretare una canzone che è molto tranquilla, che c'ha quella chitarrina lì che te la smoscia un pochino e essere anche intense. Non è per nulla facile, soprattutto se hai poca esperienza come loro. Alla fine di questa primissima missione si crea per la prima volta uno squilibrio interno. E, cosa che non era mai successa prima, abbiamo la sensazione che qualcuna di loro non ce la farà o che comunque sia stata meno brava delle altre. Questo proprio per il feedback dei giudici. Ma secondo voi, sono davvero state più brave nel primo gruppo? O ci siamo fatte influenzare dalle critiche ricevute dal secondo gruppo perdendo magari di vista quanto siano state brave anche loro? Io direi più la seconda. Tra l'altro, per come sono montati questi episodi, è palese che stiano spingendo per tre membri. Ruka, Parita e Chiquita, in particolar modo le ultime due. Che ci stiano già dando un'indicazione sulla scelta finale. Arriviamo alla seconda parte, ovvero quella di ballo. Stavolta formeranno un unico gruppo e si esibiranno in Don't Know What To Do. E non la Don't Know What To Do delle Blackpink, ma una versione che hanno registrato loro con le loro bellissime voci che tra l'altro ho assolutamente bisogno che prima o poi carichino su Spotify e non soltanto su YouTube perché la devo sentire, devo poterla sentire in qualsiasi momento. Durante le prove, Yang Kion Sog partecipa al monitoraggio e muove le critiche soltanto ad Aram, che in questo momento risulta essere il membro più a rischio perché ha avuto una prova non positiva e questa critica ben mirata. E indovinate nella parte dance della Blackpink Mission chi poteva mai esserci? Esatto, Lisa, che tra l'altro passa da un momento in cui è solo super cute e patatosa all'essere una frazione di secondo dopo super concentrata e professionale. E anche qui, oltre che dare consigli per modificare la coreografia che però non hanno fatto le ragazze ma ha fatto la loro insegnante di ballo, si rende disponibile per qualsiasi tipo di consiglio alle fanciulle. Piccola parentesi, più passa il tempo, più mi rendo conto di quanto screen time sia dedicata a Chiquita. L'esibizione è incredibile ed è la prima volta che le vediamo tutte e sette che si esibiscono insieme. Quindi è anche la prima volta che possiamo avere un'idea di come funzionino tutte e sette insieme. E adesso sto per essere linciata. Secondo me erano troppi sette membri. Probabilmente ho avuto questa sensazione perché sono abituata a vedere la coreografia con quattro membri, quindi sette sono decisamente troppi. Però, oh, volevo essere sincera e dirvi qual è stata la mia impressione. Ad ognuno, tra l'altro, vengono dedicati almeno due solo focus, ovvero momenti in cui è tutto incentrato su di loro e c'è molta equità e equilibrio tranne per quanto riguarda Chiquita che si prende tutto il pezzettone finale compresa la center part. Inoltre Chiquita riceve complimenti non solo per i momenti in cui era al centro ma anche soltanto quando si trovava di lato. Con questo non sto dicendo che stiano favorendo ingiustamente Chiquita e che non lo meriti. Raga, è tipo una delle mie preferite in assoluto. Sto soltanto notando quello che sembra essere un disegno per quanto riguarda l'editing. Appunto, ho avuto questa sensazione che per quanto riguarda Chiquita abbiano già deciso di inserirla nel gruppo praticamente dall'inizio e che quindi con un editing favorevole ci stiano abituando all'idea di averla sempre con noi. In questa performance non so assolutamente dirvi chi sia stata la migliore o la mia preferita perché sono state tutte pazzesche però posso dirvi chi mi ha convinta meno e forse direi che è stata l'ora. È l'unica che mi è sembrata un pochino più acerba nell'espressività mentre ballava. Finita la missione, le ragazze vengono valutate dai presenti e non abbiamo idea di cosa venga scritto su di loro o che criterio abbiano usato per fare la classifica ma viene fatta una classifica. Classifica che comunque non ci viene mostrata interamente infatti ci mostrano soltanto i primi tre posti Ahiona al primo posto, poi Chiquita e infine Parita. Conclusione finale A differenza dei soliti survival show tra l'altro non sono nemmeno sicura che questo possa essere definito survival show fatemi sapere voi non ho visto editing sfavorevoli ai membri oppure montaggi che cerchino di mettere in cattiva luce gli altri sia a livello di competenze sia a livello di personalità e vedo che ad ogni ragazza viene data la possibilità di farsi apprezzare dal pubblico quindi tutto questo potrebbe far pensare al fatto che magari tutto Last Evaluation sia stato fatto per creare hype intorno al gruppo e abbiano deciso di farle dibuttare dall'inizio tutte e sette ma io non ci spero, anzi io credo proprio che non sia così fatemi sapere cosa ne avete pensato della Blackpink Mission se avete voglia fatemi anche una classifica delle vostre preferite in questa parte di missione e ditemi anche cosa ne pensate delle varie considerazioni che ho fatto spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo ciao ciao